La camorra e la negazione dell'amore. Così il cardinale Crescenzio Sepe durante la messa per i festeggiamenti per il Sacro Cuore di Gesù che si sono conclusi domenica a Mugnano. La festa che ogni anno si tiene la terza domenica di ottobre e che anima la cittadina in provincia di Napoli è molto sentita dai mugnanisi che per il gran finale di quest'anno hanno accolto l'Arcivescovo Metropolita di Napoli in un santuario gremito e alla presenza del sindaco e delle autorità civili e religiose. Il cardinale ha ricordato durante l'omelia che aprire le porte del cuore agli altri e praticare l'amore tra famiglie all'interno dei condomini e nel proprio quartiere vuol dire sconfiggere la crisi non solo economica ma anche quella sociale.